Sindaci e amministratori in riunione a Pietracupa per uno dei più importanti siti del cenozoico molisano, il Parco delle Morge, interessato fortemente ad un significativo rilancio turistico della zona del centro-regione e che di fatto oggi è compromesso dai lavori per la realizzazione di una megaturbina eolica nel cuore del suo territorio, nonostante gli amministratori del competente comune di Bagnoli del Trigno insieme alla soprintendenza regionale per i beni culturali stiano tentando di evitarne la costruzione e l'impatto negativo. Un cittadino del territorio ha informato il comune che stavano riprendendo i lavori per l'innalzamento di una paleolica. Siccome c'è stata una procedura che abbiamo attivato per tutelare il territorio, che è già un territorio vingolato, e ci siamo rivolte prima al Tarra e poi al Consiglio di Stato e non è stato tutto questa ditta va avanti perché si sente autorizzata dalla regione molise a proseguire i lavori. Io riprendico la tutela del territorio e non solo del mio territorio ma anche dei convini dei paesi vicini che insieme abbiamo attivato una procedura di salvaguardia del territorio vincolato tra l'altro al bene ambientale e quant'altro. Adesso ci siamo attivati con un ricorso di nuovo al Consiglio di Stato contro questa ripresa dei lavori e vediamo il risultato quale sarà. Diversamente noi sindaci siamo tenuti solo a fare gli atti amministrativi e non usare la forza e questo lo facciamo. L'impianto eolico ha una potenza di 800 megawatt e va ad incidere negativamente su un'area di pregio storico a causa delle autorizzazioni concesse alle imprese dalla regione molise. Le forme di tutela sono quelle previste dalla legge, dalla legge nazionale e dalle leggi regionali perché le regioni, in bontà di Dio, ancora hanno una parte di competenza, seppure depotenziata dalle ultime riforme della pubblica amministrazione volute dal governo e votate dal Parlamento ma ancora hanno le forme di competenza in tema ambientale e energetico sul proprio territorio. Poche purtroppo. Per queste vecchie autorizzazioni però ci troviamo in condizione molto particolare perché la regione molise ha fatto due leggi in materia di produzione di energie e rinnovabili nel 2008 e nel 2010 e queste due leggi, il combinato disposto delle sentenze di Corte di Cassazione che hanno ritenuto incostituzionali, i corti costituzionali, incostituzionali degli articoli hanno lasciato di fatto il territorio e i cittadini molisani senza tutela. In più c'è una legge sulla valutazione di impatto ambientale che è una legge che andrebbe adeguata assolutamente, andrebbe rinnovata, riammodernata con dei maggiori vincoli a tutela del territorio stesso e questo purtroppo non è stato fatto. Grazie.